Si pensa comunmente che la pace sia quiete, armonia, equilibrio interno. Questa accessione della parola pace è incompleta. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. È un'altra pace, la pace di Gesù è un'altra pace di quella mondana. La storia è una infinita serie di trattati di pace smentiti da guerre successive. La pace di alcuni corrisponda alla guerra di altri, e questa non è la pace di Cristo. La pace di Cristo è frutto della sua morte e risurrezione. Egli infatti riconcilia tutte le cose e mette pace con il sangue della sua croce. non c'è riconciliazione senza dono della propria vita.